Il tuo impatto nell'ambiente ganata sembra devastante, davvero hai fatto due partite splendide e sei già entrato nel cuore dei tifosi, insomma, come è andato questo primo approccio del Torino? È presto per parlare di partite splendide, stiamo provando le cose che ci dice l'allenatore, siamo a pochi giorni dall'inizio del ritiro, quindi è ancora presto per valutare tutte le cose, ci vuole tanto impegno, tanta dedizione per capire quello che vuole lui. Il gioco di Ventura sembra fatto apposta per te? Sì, sì, è stato uno dei motivi principali per cui sono venuto qua comunque, oltre al fatto che comunque il Torino è una grande piazza, una grande squadra e merita di stare sicuramente in un'altra categoria. Il gioco di Ventura, sai, è uno che piace tanto giocare a pallone, mettere spesso gli esterni nel uno contro uno, quindi potrebbe esaltare le mie caratteristiche. Hai visto ieri con la maglia numero 10 che sai che nel Torino ha un volo importante, potrebbe essere anche la tua maglia in stagione quella che fu di Valentino Mazzola? No, 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 non penso, non penso. Penso che sia giusto che la prenda qualche duno che c'è magari da qualche anno in più qua. Io sono appena arrivato, quindi non ho di questi problemi. Vedendo anche le altre squadre che partecipano con voi alla Serie B, sembra che voi e forse a Sampdoria siate nettamente un gradino sopra. La pensi anche tu così o temi che ci sia sempre quest'anno qualche sorpresa, qualche squadra che possa un po' guastare i pronostici? Sulla carta è un discorso, però penso che anche il Padua sta a fare una buona squadra. Comunque purtroppo i nomi non terminano la vittoria dei campionati, l'ha dimostrato anche i campionati passati. L'anno scorso sì in Atalanta avevano una grande squadra, però state brave a riuscire a vincere, perché vincere non è mai facile. Quindi ci vorrà tanto impegno, ci saranno anche delle difficoltà, bisognerà essere forti in quei momenti là. Ti fai una battuta che hanno fatto i tifosi ieri, ma non è una battuta. I tifosi dicevano a Bianchi, mi raccomando non andare via, perché se vai via dove trovi uno come Guberti che ti fa i cross così belli? Penso sia il contrario, Guberti dove trova uno come Bianchi, no? Spero che rimanga qua, perché l'attaccante è fortissimo, lo sanno tutti, quindi potrebbe sicuramente come ha fatto gli anni passati di fare la differenza e soprattutto quest'anno se riusciamo a fare quello che dice il mister potremmo metterlo spesso in condizione di far gol. Un'ultima cosa, come procedono all'allenamento? Sappiamo che Ventura si è un po' lamentato, ovviamente per la pioggia, voi fate un po' la danza dell'anti-pioggia, del sole. Può incidere tanto in questa prima fase questo problema? Penso che la cosa più importante è ora se lavorare sul campo, quindi è molto importante riuscire ad allenarsi bene con un campo a disposizione che stia bene, che sia bagnato, che sia molle, eccetera, perché comunque dobbiamo provare tante cose e sappiamo che il gioco di Ventura non è facile da capire inizialmente, quindi abbiamo bisogno di lavorare tanto in campo. Quindi dobbiamo sfruttare tutte le occasioni che ci saranno da qua alla fine del ritiro per allenarci, sperando che il tempo ci dà una mano.